Primo spettacolo Io confesso che non lo volevo fare, quando me l'hanno proposto ho detto no vi prego il cinema teatro ma poi Betty Davis ha vinto l'Oscar, non me la sento, non lo voglio fare Meno male che non faccio il produttore e che Maurizio Panici, il regista e poi anche nella parte di Lloyd, mi ha convinta perché ci divertiamo da morire, ovviamente ho visto il film però ci siamo divertiti subito dal primo momento Non l'abbiamo virata sul fatto della giovane contro quella più anziana Quella da rottamare Quella da rottamare che sarei io Se uno la conosce altro che da rottamare che è una forza della natura Comunque perché in realtà oggi i giovani hanno diritto non solo a rottamarci credo ma a pigliare dei kalashnikov perché insomma non riescono a avere il loro spazio Direi che hanno diritto a avere il loro spazio che non hanno E nemmeno su una competizione femminile che non interessa più a nessuno E peraltro ormai è anche vetusta diciamo come visione dei rapporti fra le donne dove vige molto di più la sorellanza e la collaborazione Perché ecco raccontiamo il personaggio interpretato da Pamela è Margo E mentre il personaggio appunto interpretato da Romina sarà quella che qualche modo cercherà Innanzitutto animata da una grande passione per il teatro di avvicinare Margo Riuscirà ad entrare nel suo gruppo di lavoro Riuscirà anche a sostituirla nel corso di questa storia Quindi insomma ecco un rapporto Il titolo stesso dice Eva contro Eva di grande contrapposizione legato al carrerismo Però dove in realtà nel caso del personaggio interpretato da Romina Animata da una grande passione per il teatro Indubbiamente quello che mi viene da dire come caratteristica fondamentale E che si nota da subito di Eva È che è una ragazza appunto Che ha un grande talento Ha talento in vari sensi Quindi è un talento artistico ma anche un talento nella vita Che sfrutta portandosi poi dalla sua Tutte le persone, i personaggi che incontrerà in questa sua vicenda Una grande manovratrice È una manipolatrice, una manovratrice È vero che si lascia prendere molto la mano Perché all'inizio è incantata È completamente succuba e vittima anche di questa passione Quindi quando incontra questa grande attrice Che è Margot Cenni appunto interpretata da Pamela È impietrita È sicuramente l'ideale a cui lei aspira Riesce a farsi assumere come segretario E poi piano piano si insinua Piano piano prende possesso Fino poi a veramente a rubarle la scena La scena La scena È sicuramente l'ideale a cui lei aspira